Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Giovanni Petronio, scrittore del libro I ragazzi della Fiumarella, un disastro ferroviario a colori. Lui presenterà il libro proprio a Cleto, anzi a Savuto, al castello di Savuto, il 30 giugno la settimana prossima e gli chiediamo com'è nata questa esigenza per lui di documentare, di scrivere questo libro che poi non è altro che la documentazione di un fatto molto grave avvenuto il 23 dicembre del 61. Ciao Giovanni, spiegaci in breve e poi ti chiederemo altre cose. Ciao Riccardo, ciao amici di Liberi.tv. Allora, questo libro nasce da una precisa esigenza appunto, quella di incastonare nella storia un fatto che praticamente stava volando via, stava volando via per sempre. Ho provato a raccontare il più grande disastro ferroviario della storia d'Italia che ha ammietuto 71 persone, 71 vittime, 31 delle quali della mia comunità di decollatura, pari guarda al 44% del totale. La maggioranza erano ragazzi, media d'età 27 anni, 16 anni se andiamo su decollatura, quindi stiamo parlando di un dramma senza precedenti, davvero una terza guerra mondiale che ha devastato tutto e tutti. Tra l'altro, lo hai ricordato adesso tu, erano ragazzi che andavano a salutare i loro insegnanti, i loro amici. Nell'ultimo giorno insomma di scuola, prima delle festività natalizie, poi c'erano anche dei pendolari che andavano lì a vendere, hai scritto i prodotti tipici del luogo, quindi è una tragedia che ha colpito molte famiglie e tu sei riuscito con il tuo libro a documentare le loro vite, come se fossero delle mini biografie all'interno invece di un unico libro. Ci sono le foto, ci sono addirittura i telegrammi, ci sono tanti dati che hai penso messo molto tempo a cercare. Io ho impiegato anni a fare questo volume che in realtà è il primo di due volumi, perché non uscirà un altro poi successivamente. In questo primo io appunto ho provato a descrivere le storie di questi ragazzi, bevute di speranze, di gioia infrante, di amori mai vissuti totalmente e quindi sono storie di vita in realtà, storie di speranza, una speranza che questi giovani non hanno mai avuto. E poi tra l'altro c'è anche da dire che l'importanza della memoria, l'importanza del ricordo, lo hai sottolineato in tutte le presentazioni che hai fatto in giro per la Calabria, dove spiegavi questo, che l'Italia purtroppo le istituzioni, la politica tendono a dimenticare, se non addirittura a revisionare, ma in questo caso parliamo di dimenticare. Quindi per non perdere un documento importante, addirittura ho letto un mausoleo che è stato dedicato proprio alle vittime di questo bruttissimo incidente, che però è un piccolo mausoleo, non viene ricordato, quando invece forse dovrebbe essere ricordato ogni anno. Guarda, io penso che in qualche modo ci vorrebbe un interessamento da parte degli organi competenti, cioè io sto parlando magari delle istituzioni calabresi. Sarebbe bello se il Presidente della Giunta regionale decidesse o comunque proponesse di intitolare magari una sala della regione ai ragazzi di questa tragedia. Quindi perché invece di chiamare alcune sale della regione Calabria, sala oro, sala verde, sala gialla, non la chiamiamo una di queste sale, sala 23 dicembre 1961. In fondo è stato il più grande dramma del ferroviario di questa regione e dell'Italia intera, quindi non vedo perché il 23 dicembre non possa essere istituzionalizzato a data della memoria. Io penso che è stato detto tutto per quanto riguarda la premessa. Adesso non ci resta che lasciare ai nostri amici web ascoltatori o le persone che vogliono partecipare il 30 giugno, proprio fra qualche giorno, questo sabato alle 18.30 al Castello di Savuto per ascoltare la tua voce, ascoltare quella delle giornaliste Pasquale Allegro e altri che vedrete comunque nella locandina. Sarà anche proiettato un documentario e qui potreste vedere qualcosa davvero di raro perché oltre le immagini che sono presenti nel libro e quindi le ricerche fatte da Giovanni, c'è qualcosa che non è stato ancora visto. Quindi io vi invito anche per questo a visionare perché sarà un momento sicuramente storico. Come è storico un libro che documenta persone che sono ancora vive fortunatamente nella comunità di decollatura? Sono ancora vive e difficilmente scompariranno nella nostra quotidianità. È importante far riconoscere questo dramma, quindi andare dal particolare verso l'universale, quindi uscire da questi confini per andare in luoghi che non hanno mai conosciuto questa vicenda, nemmeno per sentito dire come appunto la comunità di Cleto o altre comunità. Quindi sono piacevolmente, sono rimasto ad esempio piacevolmente colpito dalla lettera che ho ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella che mi ha fatto i complimenti per il libro, mi ha spronato ad andare avanti su questo percorso della memoria. Quindi è stata una lettera davvero confortante, mi è stato vicino e credo che in realtà è stato vicino anche alla mia comunità a decollatura e quindi è importante avere questo genere di situazioni. Perfetto, io ringrazio Giovanni Petronio, i ragazzi della Fiumarella, un disastro fra i colori edito da Link Edizioni, ecco lo diciamo ma comunque andrà in sovraimpressione. Quindi vi aspettiamo il 30 giugno alle ore 18.30 presso il Castello di Sabuto a Cleto. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Decollatura. Grazie.